ok ci siamo allora nella migliore delle delle mie tradizioni nel corso di questi video non mi ricordo dove siamo arrivati però volevo farvi vedere un po di collectibles che sono sempre interessanti a me piacciono tanto queste cose adoro i giochi che che hanno queste opzioni così poi passiamo avanti abbiamo anche una la mappa danger delle miniere e poi un sacco di altre cose che insomma manovano che giocate ovviamente qui adesso si fa per ridere non sono una professionista ma manovano che si gioca è molto divertente stare qui a leggere tutto a mettere insieme i vari pezzi mentirei se dicessi che la prima volta che ho giocato l'ho fatto assolutamente no no c'è ancora qualcosina cos'altro non mi piace vedere quel new lì sotto è come una notifica sul cellulare io di solito le leo subito non le sopporta ecco allora abbiamo questo poi abbiamo questo considerando che le avevo trovate tutte queste cose che adesso il gioco ha pensato bene invece di di togliermele solo perché ho scritto a poi qua bellissimo perché ci sono tutte le varie ecco perché ho giocato 60 volte ma non mi ricordo niente ogni farfalla praticamente dimostra quella data scelta che che ripercussioni ha o comunque ti mostra vagamente che ripercussioni ha nel senso che ci devi un po pensare tu ci devi un po ragionare su tu e io appunto ogni volta ho cercato nel corso delle dei vari tentativi di di avere nuovi nuovi outcome e insomma non li ho beccati tutti anche perché alcune cose non le farò mai tipo appunto ammazzare gli animali cose così e quindi insomma vabbè qualcuna qualcuna l'ho vista qualcun altro no allora riprendiamo e ormai abbiamo deciso che il previous lyon lo ce lo sorbiamo questo è l'inizio c'è sempre perché così almeno abbiamo un'idea fino all'ultimo avremo avremo il ricordo di come queste due poverete sono morte visto che è la cosa più importante del gioco perché poi il come si dice i risvolti sono piuttosto macabrie quindi insomma come vi ho detto io apprezzo moltissimo al di là di tutte queste cazzate che poi succedono nel frattempo però josh è un individuo importante in tutto questo nonostante poi con la realtà delle cose che è intricatissima e ha del diciamo non del paranormale ma ovviamente le spiegazioni sono piuttosto fuori dal dal comune e nonostante questo josh ci sta bene dentro perché vabbè poi scoprirete adesso facciamo questo pezzo della lujabur che è molto interessante io ripeto che una cosa del genere che ci si creda o meno io non la farei mai nella mia vita ma proprio mai 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 quindi no giusto per farvelo sapere non si sa mai che ci troveremo mai nella condizione di fare una cosa del genere io sarei la prima a dirvi fate pure quello che volete io me ne vado quindi la facciamo facciamo fare la seria dai sì facciamogliela prendere seriamente anche perché insomma la proposta visto che insomma sono mancate due ragazze anche se loro non sanno che sono morte però non è molto bella cioè da fare nell'eventualità che fossero morte queste due ragazze non è bello andare a chiamarle guarda caso non c'è mai qualcuno che muove ma di solito si muove sempre questo cavolo di puntatore chiediamo chi ha bisogno di aiuto perché quella è la cosa più importante in questa seduta sapere chi e beh si sei oh eh di chi e beh lei già non ha alcun dubbio Ne aveva due Una sarà Ma facciamo Hannah Che era la più simpatica Anna? È tu? Sì Oh Dio Questo è messo Josh? Sei... Sì Sei sicuro perché possiamo stoppare No Dio È bello Eh la curiosità Uccide il gatto eh Eh quello è un problema Dai chiedi forza Guarda si vede alla faccia Ripeto io faccio finta di non sapere Che cosa è successo Dai facciamo Che le chiediamo Cosa è successo Si vede proprio come Mi mancano entrambe Non voleva finire la parola C'è la cosa di paglia lei Però è bello Il senso di colpo è bello Perché sta bene Beh chiediamo come sei morta Visto che chi lo sappiamo già Perché La farfalla ha sbattuto le ali Dei coglioni mi hanno fatto uno scherzo E sembra scemo invece Ed è strano che Non se ne siano andati tutti In quell'esatto istante È molto strano Adesso va la colpa loro Eh però è tutto Ha tutto molto senso Bello Beh mi piace questo pezzo Comunque nessuno ha acceso il riscaldamento Lì dentro Perché ci hanno ancora tutti i cappellini E le magliettine pesanti A parte che riscaldare una casa del genere Mamma mia È una cosa Oh Siamo tornati dai due deficienti E vediamo Dai forza Eh era la cosa più logica no Che andassi a vedere Che cosa le è successo E comunque vorrei far notare Siccome vi spoilerò Che lei sta facendo l'idiota È bello no In una situazione del genere Far pensare a una persona Che ti è successo qualcosa di brutto Perché cioè voglio dire Non è proprio Il massimo della vita Questo posto Quindi può succedere Anche che caschi Non so In un burrone In una trappola per orsi Quindi sarebbe anche bene Va bene Allora andiamo Io li amo tutti Lo sapete Ve l'ho già detto Allora andiamo a guardare qua Che è successo Badila Siete spaventati? Eh l'ho visto 60 volte Non ci posso fare niente Io non mi spavento più Ok avrei potuto anche evitarlo E anche quello porta degli effetti Il magari non guardare certe cose Non Ah ma posso guardare di nuovo Scusa Ah Ah ok La chiama ancora Sì Light of my life È proprio come la definirei anch'io Sicuramente Guardate che cerca sempre le monettine a terra Ma qualcosa Stavolta la troviamo Via Andiamo a vedere che bel presagio che c'è qua sopra Non me lo ricordo più Seriously Ok Questo È un presagio di pericolo Adesso non so Perché ogni volta io Vorrei andare in due o tre posti contemporaneamente Ma Non posso Vabbè Andiamo giù di qua Visto che Sembra Che di qua non si possa andare Ci mettono quelle 6-7 ore Ad arrivare a sta Cabine È veramente fastidioso Questo pezzo Più che altro loro Sono fastidiosi Quindi Diventa Sì vai avanti Stava promettendo di non ucciderti Ma mi sa che adesso Ah va beh Lo mettiamo su YouTube Dai Così è contento Anche lui diventa famoso Sentite le giustificazioni che dà lui Dovreste essere più che altro congelati a morte Invece Per la gioia di lasciarvi con i vostri vestitini attillati Hanno deciso di Di non mettermi cose calde addosso Vi sta anche bene No Grumpy Non ti conviene Perché ti devo Devo lavorare sodo dopo Per farti diventare fastidiosa Altrimenti non è divertente Guarda Chissà Chissà qual è la forza della tua mente Una potenza incredibile Andiamo avanti Ah no guarda Guarda qua cosa c'è Lo farei tirare su a te Per la gioia di vedere cose brutte Invece lo devo tirar su io Via Cos'è Ok Questo è un bel pull in là Col tempo E ci arriveremo Ci arriveremo Con tanta fatica E No voi non lo sapete Ma io sto già pensando Che quando ci saranno i pezzi Di Mike Più avanti La mia Il mio solo interesse È tenervi Il cane E mi hanno messo questa incombenza E quindi adesso sto pensando A tutti i pezzi In cui devo Stare attente a non scazzare Perché Se muore il cane Io Sono triste E il lupo sarebbe più che altro Va bene Lui va avanti La lascia dietro Andiamo anche veloci Perché Più dietro stai meglio Solo perché sto guidando lui Se guidassi lei Lascierei dietro lui Perché tanto li odio In maniera Equa Io sono molto Eca Date le impronte Sul terreno Bella inquadratura Qua ci dividiamo Tra cose che le inseguono E che effettivamente Stanno inseguendo E cose che in realtà Servono solo per Per distrarre Per distrarci Cerchiamo di tirare Dai Con poca convinzione E ti stava bene Se ti dava una cornata E invece Porca miseria Ma per favore Smetti la rincoglionita Avanti Proseguiamo Cerca sempre giù in basso Guarda Che se guardi in basso È partita la colonna sonora Di Silent Hill Senza motivo Ti muovi Mike Sì veramente Come te Ok Adesso C'è questo pezzo Qui in cui troviamo Altre belle cose Da Da guardare Qui Cosa c'è di bello Niente Allora Entriamo dentro La casetta O qualunque cosa Sia Questa roba qui Dai Mike Mamma mia Non è sempre colpa mia Sei tu che sei Rincoglionita Già Voglio dire Era più facile Tenere su Connor Ok Questa è una maschera No direi Che non la spaventiamo Perché ripeto Che voglio Farlo Diventare fastidioso Dopo Sono già Già partiamo Svantaggiati Sei veramente Deficiente Che bello Mettersi la maschera In cui ha respirato Qualcun altro Schifo Ok La buttiamo lì Certo Perché inquinare Già Inquinate Con la vostra presenza Ma buttiamo anche La roba in giro Cos'altro c'è Da vedere Qui dentro Che non mi ricordo più Probabilmente nulla Ok C'è tutto questo Ambaradan Solo per Una mascherina Va bene Andiamo avanti Vieni Vieni Jess Vieni Siamo quasi arrivati Con calma Cioè Tutta sta fatica Per accoppiarsi Ragazzi Io avrei evitato Sinceramente Sarei rimasta A casa A litigare Con gli altri Ecco Era anche girato Dall'altra parte Mike ha Degli strani riflessi Vede con la cosa Dell'occhio Probabilmente Allora andiamo Andiamo a vedere Questo pezzo è Come potrete immaginare Non è il mio pezzo preferito Ovviamente Perché devo Vedere cose brutte Avrei preferito Vedere Mike In queste condizioni Però Siamo qua E adesso Come la legge Di questo gioco Spesso impone Sarà meglio Fare niente No Confortiamolo Perché Purtroppo È vero che Io Lo toglierei Dalla sua Dalla sua Sofferenza Però Se non abbiamo I mezzi Per farlo In modo rapido No Perché ho già provato Ragazzi Non lo fate Perché non è bello Da vedere Tanto è una morte Di questo dolce Oh Guarda Per favore Facciamolo cadere Facciamolo ammazzare No 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 Non voglio barare Dove riesco faccio Se mi danno il tempo Non posso Risk Sì dai Rischiamo Che è più difficile E guarda lui Come va avanti Per primo Mi sta andando bene Che ho i riflessi pronti Oggi Stranamente Ripronti Cioè Un'ora e mezza Mi danno di tempo Ci noncherebbe altro Magari quando Avrò 85 anni Ci metterò Un po' A reagire Perché ancora Non avrò imparato I I I I comandi No Aiutala Aiutala Ti prego Perché se no Poi non La sentiamo Fino a domani mattina E guarda anche Come si rivolta Avanti E se neanche Cos'è che ti stanno Inseguendo E il bello È che si stanno Cagando sotto E comunque Fra 5 minuti Tutto quello Qui penseranno E accoppiarsi Che è una cosa Molto triste Cioè Cioè Dai la finite Perché Cioè state facendo Veramente un discorso Pregno di significato No È un gioco E voi siete tristi Va bene Le ultime parole famose Tra l'altro Eh Guarda che bella Nemmeno la luce Non so perché Ha updatato Il butterfly effect Non so che cosa ho fatto Di nuovo Ah ok Probabilmente Qualcosa che Magari non ho fatto Nel corso Ma guarda Com'è romantico E tutto quanto Lì dentro Sì sì In realtà lo è Però al freddo Non è che sia il massimo È più romantico La roba che vi sta Vi sta braccando fuori E per la cronaca Se ci fosse Hannibal Lecter Sareste più fortunati Comunque Questo poi lo scopriremo Più avanti Posso fare qualcosa Anch'io Oddio